È sicuramente un'area molto importante, è il più grande blocco dell'Asterno Arco, con il più grande foresto e anche il più grande gradiente di elevazione di vegetazione continuata, 300 a più di 2000 metri. Quindi sono una resursa di acqua di acqua di acqua di acqua. In realtà circa un terzo della produzione nazionale di elettricità è vero a due planti di hydropowero, uno sotto nel sud di Muttunga Scarp, in Kihansi, e uno in Kidatu, nel Ruama Ribo. E ovviamente il Kilombeiro Valle, che è all'estate di questa foresta, dove lavoriamo, è molto, molto fertilizzata, da questo motivo c'è un'intensiva coltivazione di zucchero, coltivazione di rizzo, fischio, molti di acqua, quindi la valle, che è un'inituale strada tra l'Utzungua e la Reserva Selugua, è molto, molto popolata, perché del servizio ecosistema che è provato per le montagne. Grazie.